...della Pinacoteca, è riuscito a mettere in salvo, con grazie all'opera loro, tutti i dipinti della Pinacoteca che come vedi è stata coltita dal trisma del 29. ...sì, stiamo arrivati. Una cosa in legno o carta a piedi? No, non è vero. Loro hanno appena fatto una mostra, per l'altro in collaborazione. ...e la committenza di cento, e anche di piedi di cento, è comunque di altissimo livello. ...mai tutto personalmente all'esecuzione di questi paesaggi che poi sono assolutamente alla ragguaglia per spigliatezza di... ...però, adesso anche a loro due che sono le mie donne... ...io sono qua... Grazie a tutti...